Come promesso ecco le mie impressioni sul nuovissimo pannello fotografico che mi ha spedito SalDigital È una foto stampata su un pannello in pvc da 60x90 cm SalDigital ce l'ha mandata, ovviamente la foto è fatta da me È fatta con questa macchina qua con la Sony Alpha 5100 L'abbiamo fatta a Burano, giusto per dirvi dove è questa fantastica location Era una delle mie foto preferite Ho deciso di stampare proprio questa anche perché mi piaceva tantissimo il colore E volevo vedere se si riusciva a mantenere la stessa qualità d'immagine anche su stampa Devo ammettere che il pannello seppur così grande, perché una foto così grande sinceramente non l'avevo mai stampata Mantiene veramente bene tutti i colori e anche qualitativamente è fatto bene È proprio bello, sono soddisfattissimo Per me sono stati veramente bravi, velocissimi e soprattutto una qualità fotografica della stampa del pannello grandiosa In questo caso come Pepinio ho deciso di spendere tutti i 50€ per il buono E di aggiungere io i 10€ della spedizione perché volevo avere una foto molto grande Sono veramente soddisfattissimo del prodotto Quindi complimentoni, complimentoni Io penso che non sarà sicuramente l'ultimo fotoquadro che andrò a fare con loro Perché sono stati bravi, cacchio Perché è veramente bello Complimenti Il pannello è in pvc, se non ve l'avevo detto Sì, ve l'avevo già detto 90x60 E largo Profondo 5mm Questi 5mm permettono al pannello in pvc di essere rigido E quindi non ha bisogno di una cornice o quant'altro SalDigital Grazie, grazie, grazie A presto ragazzi, ciao!